Il grande successo ieri sera per lo spettacolo Tribute to Bart Bacarack, una celebrazione del grande compositore americano, delle fondazioni Teatro Massimo e Archessa Jazz Siciliana de Brass Group, insieme con una propria produzione on stage, al Teatro di Verdura a Palermo, uno dei più spettacolari e suggestivi della Sicilia. Le musiche sono state eseguite dalle due orchestre dirette al maestro Domenico Riina, che ne ha curato anche gli arrangiamenti e l'orchestrazione. E' interpretato da Lucy Garcia in modo magistrale, con continui apprezzamenti da parte del numeroso pubblico presente. Il tutto è stato arricchito dalle armonie melodiche di una special guest conosciuta a livello internazionale, Giuseppe Mielici, all'armonica. Tribute to Bart Bacarack, voluto fortemente sia dalla fondazione Teatro Massimo, che dalla stessa fondazione del Brass Group, che ne firma l'inaugurazione della stagione Brass Summer, e che da 50 anni si dedica alla produzione e promozione della musica jazz, è un omaggio a colui che è considerato uno dei più grandi geni della musica popolare americana. Le sue canzoni superano le aspettative di ciò che una pop song dovrebbe essere. Armonie avanzate, mutazioni di accordi con imprevedibili modulazioni, improvvisi cambi di ritmo. Ma pare tutto così naturale che non te ne rendi conto e non puoi fare a meno di metterti a fischiarlo, così come scrive il genio creativo del jazz, il sassofonista John Zorn.